ha detto sono arrivato alla fine e i fan in delirio sono arrivato alla fine sono arrivato all'inizio alla fine durante uguale voglio dire è ovvio che un scalatore già c'è un'implicazione non può scalare le montagne se non è nel pieno della sua forza cioè anch'io facevo attività sportiva di un certo tipo arrivato all'età della pensione non ce la fai le ginocchia non ce la fanno più capisci cioè la tua motricità perde poi c'è la dimensione del cambiamento cioè io per esempio ragione su rimini no che la città dove abito cioè è una città completamente nuova no nel io sono il primo critico di tutti i lavori togliere le auto dal lungomare è stata la più grande tragedia del novecento capito come è come l'attacco alla bastiglia il collo del muro di berlino il muro del pianto poi cosa abbiamo non so mi viene in mente il presepe di greccio di 18 non lo so cioè voglio dire non puoi togliere i soldi dal turismo è un concetto elementare perché i soldi girano con le auto non girano ancora a saccavalli o vogliamo tornare ai tempi della nascita della fiat quando quel avvocato il padre dell'avvocato agnelli teorizzò la storia dell'automobile non so come ho detto questo quindi il cambiamento il mutamento ok questa è una prima cosa una città è riconoscibile cioè il tuo corpo diventa irriconoscibile a te stesso questo è quanto questo questo è quello che succede nella vecchiaia cioè tu ti guardi allo spesso e tu non ti riconosci più cioè il cambiamento il mutamento fa parte di ogni essere vivente di ogni essere umano hai capito adesso non mi fate fare le teorie taoiste però nel tao cioè c'è una dottrina psicologica che andrebbe approfondita studiata in occidente ha tecchito molto relativamente poco perché noi siamo una civiltà ovviamente dedita al profitto la realizzazione del sé dell'io del superio no il superio fluidiano però il problema che l'ho detto la psicologia dominante che si spiega tutto invece non si spiega nulla tu vuoi spiegare tutto forse puoi puoi spiegare paradossalmente la fede attraverso la teologia ma non fanno più la teologia nelle chiese fanno dottrina sociale la chiesa del concilio dottrina sociale e dottrina politica non è cultura e non non è fede perché la fede dottrina non è fede perché la fede dottrina